adesso mi dispiace perché ora c'è il vincitore e con questo poi si chiude la festa per modo di dire almeno la mia presenza si chiude quindi entra qui bike weekend 2024 e fate finta che ci sia la musica che tutte le volte mi scordo di dirgli a dj di metterla fatela voi bravi bravi il vincitore del bike show lo voglio qui bene luis bello marzo marco vai con la foto così così mi voglio questi questo è il nostro mondo è questo che siamo ragazzi ecco il vincitore il prossimo cannesi sposi allora qua dovevi fare l'addio al celibale l'hai fatto lo sapevo lo sapevo che c'è che è successo la magliezza ovviamente ragazzi io io vi faccio i complimenti siete tutti bellissimi però le ragazze le bacia solo lui perché se no non finiamo mi sembra giusto le ragazze le baci solo te però vieni un attimo qua con me allora sei contento di aver vinto contentissimo dici la tua impressione su questo entrato il 2024 è sempre una bellissima festa bella gente belle moto e grande divertimento soprattutto poi ti sei divertito forse anche un po di più di quegli altri diciamo di sì allora questo video andrà direttamente alla futura moglie lo sai vero sei ripreso in televisione speriamo che non mi lasci allora se non ti lascia così cioè sono collaudato sei collaudato super applauso super applauso io però vorrei o Angelo il presidente non me ne vogliano voi baciatevi le bimbe fate quello che vi pare io uno dei due qualcosa ve lo dovete dire perché perché ve lo meritate tutti a nome di tutti però Angelo parlare parlare di entraque bike weekend ormai è ogni cosa che dice riduttiva secondo me l'unico difetto che ha è che uno di quegli eventi che se non lo vivi se non vieni hai voglia di fare foto anche se sono bellissime hai voglia di fare video anche se sono insomma fatti un po così da noi però è viverlo che rende viverlo è un'equazione di tutte le parole che hanno detto gli undici ragazzi che sono montati sul palco niente io voglio ringraziare tutti per questi quattro giorni vecchio stile come piace a me mi dicono che sono un vecchio ma che ero già vecchio prima ringrazio soprattutto il comune che ci dà possibilità di fare questo evento ringrazio lo Ciclub che ci fa sfruttare tutte le sue strutture della zona la piscina gli stendisti che ovviamente vengono su tutti voi e ringrazio i miei fratelli che mi sopportano questa settimana che di solito è una settimana molto impegnativa da sopportarmi grazie a tutti ci vediamo il prossimo anno seconda settimana di luglio entra qui by weekend grazie a tutti ragazzi chiudiamo con un bel rock and roll non andate via perché si mangia si balla si fa casino ancora ciao da noi seguiteci garageschool.tv grazie a Marco Lorralda la mia deb ciao ragazzi al prossimo anno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti